. Clelia la strada della felicità, Mario Balotelli padre, è nato Leon. Mario Balotelli padre per la seconda volta. Dunque Mario Balotelli è padre per la seconda volta, è nato Leon. Mario Balotelli, loading effettuato, fiocco azzurro in casa di Mario Balotelli. . . Gossip, che padre sarà Mario Balotelli con il piccolo Leon? In realtà, lo sappiamo già, conosciamo la vicenda con la piccola Pia e con la madre Raffaella Fico. . In un primo momento Mario non voleva prendersi le sue responsabilità, ma poi ci ha preso talmente gusto che lo ha rifatto di nuovo. Ultime notizie gossip e tv. . Questa volta è arrivato il piccolo Leon. Già si fanno le prime ipotesi, diventerà bravo come il padre o sceglierà altre strade? Il futuro sicuramente lo deciderà. . Mario Balotelli ha un po' deluso, forse, come calciatore, ma non come papà, la sua Pia è una bambina felice e lo sarà sicuramente anche Leon. .